Che ti dico? Vabbè, mia moglie ha perso la testa con un'altra e mi ha mollato. Io mi occupo di artigianato. Faccio ricchini, collanine. I miei neanche sapevano che fossi qua. Sì, sì, a me piace l'idea della comune. Io sono figlia di una sessantottina, papà ha fatto il G8. Ma no, io non dormo qui. Però ci vengo tutti i giorni. Ma poi che cazzo ci fai con sta roba? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.